La casa di riposo Santa Rita di Atria è al centro di una crescente tensione tra i sindacati e le ditte che gestiscono i servizi all'interno della struttura. La Will FPL si prepara a dichiarare lo stato di agitazione dopo una breve fase di distensione a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi alle operatrici, circa 14 che operano all'interno della struttura che ricordiamo fa capo all'ASPE2. Il segretario provinciale della Will FPL Massimiliano Bravo ha evidenziato che solo il 14 febbraio è stato saldato il pagamento della mensilità di novembre 2023, mentre i ritardi per dicembre e gennaio sono oramai conclamati. Il sindacato ha richiesto l'attivazione di un tavolo di conciliazione in prefettura, ottenendo impegni da parte dell'ASPE2 e dai due gestori dei servizi per quanto riguarda il pagamento degli stipendi. Nonostante gli impegni presi, la situazione non è migliorata concretamente, mentre l'ASPE2 ha recuperato il ritardo contrattuale, i gestori non hanno ancora rispettato l'impegno di versare la mensilità di dicembre entro la scorsa settimana. Di fronte a questa situazione, il sindacato è pronto a riaprire l'avvertenza e a intraprendere ulteriori iniziative di protesta.